Via Libera ha la realizzazione di 5 nuovi elettrodotti in Sicilia. L'Aggiunta regionale ha dato il Via Libera alla sottoscrizione di un protocollo di intesa tra la Regione Eterna, la concessionaria di trasmissione del servizio di rete elettrica, come previsto dal Piano Energetico Ambientale Regione Siciliana. L'investimento stimato per le infrastrutture che dovranno essere realizzate nell'isola è di circa un miliardo di euro e sarà interamente a carico del gestore della Rete Elettrica Nazionale. L'intesa prevede di accelerare l'Itera per la costruzione dei due elettrodotti da realizzare nelle province di Catania e Siracusa e uno nel Ragusano, oltre alla costruzione di due nuovi impianti nella zona di Assolo in provincia di Enna e tra la provincia di Trapani e Palermo. Per ridurre il peso delle infrastrutture elettriche esistenti nella provincia di Messina e in particolare nella Valle del Mela, l'intesa prevede la possibilità di realizzare a Valle delle Entrate in esercizio del nuovo collegamento Sorgente-Rizzicoli un collegamento diretto con un elettrodotto aereo in semplice terna 380 kW tra la futura stazione elettrica di Sorgente 2 e la stazione elettrica di Villafranca e la demolizione di alcune infrastrutture esistenti dopo la realizzazione dei nuovi impianti. Si tratta di un risultato che consentirà alla regione di attivare investimenti per un miliardo di euro e di migliorare la rete elettrica rendendola moderna ed efficiente, affermato l'assessore regionale all'energia Vagna Contrafatto. L'obiettivo è razionalizzare gli impianti elettrici attuando interventi in tutta la Sicilia.